Il formato si è fatto piccolo, la stanza è una stanza di un interno, di delta, in cui noi siamo gli intrusi che entrano a interrompere un piccolo gesto quotidiano, apparentemente senza storia, come quelli che compiamo continuamente, che ci affacchendo, che ci riempiono le giornate. Sono sempre donne da sole, intente a occuparsi con amore, piccole cose, come se nei piccoli gesti si nascondessero in una sorta di senso quasi religioso immanente del quotidiano. Sul muro inolto, di fianco alla finestra, fosse uno specchio, un piccolo quadro, in sottofondo un bambino che piange dal museo, così come fosse nella casa della donna, a sottofondo, le attività degli abitanti. Lei non si fa distrarre, lo sguardo verso il basso, dolcissimo, la luce che le illumina alla metà del volto, come accadeva, ma che caravaggio che va in verità con questo stile e che verrà impiegato così tante volte. Grazie. 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 Grazie.